Uomo che cammina sui pezzi di vetro che dicono è due anime, sesso di ramo duro il cuore e una luna e dei fuochi alle spalle mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella niente a che vedere col circo né acrobata né un maggiatore di fuoco piuttosto un santo a piedi nudi quando vedi che non si taglia già lo sai ti potresti innamorare di lui forse sei già innamorata di lui cosa importa se a vent'anni è nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio è mia sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già non conosce paura l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie ride sorride perché ferirsi non è possibile morire meno che mai e poi mai insieme visitate la notte che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna utile e dolce come ombrello teso tra la terra e il cielo lui ti offre la sua ultima carta il suo ultimo prezioso tentativo di stupire quando dice è quattro giorni che ti amo ti prego non andare via non lasciarmi ferito e non hai capito ancora come mai ti hai lasciato in un minuto tutto quel che hai però stai bene dove stai però stai bene dove stai però stai bene dove stai grazie a tutti Grazie a tutti.